Importanti progetti del Comune di Pescara per quanto concerne la cooperazione, se ne parla oggi in conferenza stampa, dottoressa Becchi, di cosa si tratta nel concreto? Il Comune ha partecipato al primo bando dedicato anche agli enti territoriali, emanato dall'AICS, cioè dall'agenzia che si occupa di cooperazione allo sviluppo e che dipende dal Ministero degli Esteri e si è aggiudicato con un accordata che vede come capofile al Comune di Rimini un progetto di cooperazione allo sviluppo per il Senegal. Potevamo scegliere una serie di paesi che erano candidati per fare cosa in sostanza? La teoria è questa, di finanziare creazione di impresa nel loro paese e quindi di aiutarli a crearsi una loro indipendenza anche economica. Abbiamo dentro anche un'associazione molto importante dei senegalesi e il Comune di Pescara collaborerà per il trasferimento di buone pratiche, in particolare sulla gestione anagrafica dei migranti per trasferirla ai comuni senegalesi. Ci crediamo molto, tra l'altro questo progetto con capofile Rimini è arrivato primo nella graduatoria nazionale dove noi siamo partner.